A due anni esalti dal sisma del 2016, l'intero quartiere di Colle Atterrato a Teramo conta un sesto di popolazioni in meno a causa dell'inagibilità di decine e decine di palazzi, 28 solo dell'Ater, 1.200 sfollati, di cui 997 in autonoma sistemazione, 99 nuclei familiari in albergo e il disagio della lontananza da casa, soprattutto per gli anziani che in molti sono deceduti dal dolore dell'abbandono. A denunciare è la neopresidente del comitato del quartiere Teramo Est, Anna Di Ottavio, che propone tutta una serie di misure per far ripartire la ricostruzione a Colle Atterrato, nemmeno iniziata dopo due anni. Cosa pensate di fare? Noi vogliamo lavorare in collaborazione con gli attori preposti alla ricostruzione, quindi parliamo di comune, parliamo di ufficio della ricostruzione, parliamo di Ater, qui è l'Ater a Colle Atterrato, soprattutto, che ha il danno maggiore. E da questa collaborazione, ma espressa anche in termini di pungolo, noi vogliamo l'accelerazione della ricostruzione. Lei è stata eletta in questo comitato, intanto è una donna, quindi è già un grande risultato. Ecco, come sono avvenute queste elezioni? Noi abbiamo svolto assemblee nel periodo precedente, abbiamo cominciato durante l'estate, creando un gruppo promotore per la nascita del comitato. Ci siamo date delle regole finalizzate alla creazione di questo comitato, che poi è stato votato dai cittadini. Noi cerchiamo di applicare, e ne siamo assolutamente convinti, i principi della democrazia partecipativa. Lei ha dato un dato un po' sconvolgente, ha detto che quando sono state sgomberate le famiglie, in molti sono morti. Beh sì, sì, ripeto, non voglio dare alcun valore statistico alla cosa, però data l'età media e per quella che è la mia esperienza personale, la mia palazzina, 18 alloggi. In questi 18 alloggi, chiaramente sfollati, sono morte tre persone, nei successivi tre mesi. Lasciare casa fa morire? Io non voglio arrivare a dire questo, di sicuro ti cambia la vita.